Io sono molto d'accordo sulle ultime cose che diceva lui, cioè su questo problema dell'autonomia e della teoria, anche se come vedrete questo tema lo svolgo in modo un po' diverso da come è stato affrontato. Le domande da cui muovo in questo mio breve intervento sono molto semplici, cioè qual è la forma della teoria nel marxismo, che cos'è la teoria nel marxismo e quindi quale rapporto tra la teoria marxista e la tradizione marxista, tra la teoria e l'attualità nel marxismo. Domande che non articolerò sul piano metodologico generale, ma riflettendo su Gramsci, il titolo di questo mio intervento è Gramsci e noi, su punti del programma gramsciano che andrebbero secondo me oggi ripresi e rilanciati. E rifletterò anche su, diciamo, seppure alla fine sono accennato, su uno sfondo diverso da quello ipotizzato dallo stesso Gramsci, dentro il quale occorrerebbe collocare questi punti, superando alcuni limiti del discorso di Gramsci, che inibiscono oggi una efficace e più solida critica dell'esistente, che rimane il problema essenziale del marxismo. Ringrazio Luca, gli organizzatori di questo convegno, gli ideatori di questo convegno, per questo invito, e per avermi spinto, diciamo ancora una volta, a mettere in relazione Gramsci e il nostro presente. a riattivare questa relazione, che, debbo dire, la cultura gramsciana degli ultimi 30 anni, pur tra enormi contributi, tra enormi meriti, che non sto qui a ripetere, ha di fatto però, questo è il bilancio che potremmo fare dopo 30 anni, ha di fatto neutralizzato e messo da parte. Neutralizzando, così e mettendo da parte, anche quello che rimane l'assunto fondamentale di Gramsci e anche l'assunto fondamentale del marxismo in generale, secondo il quale, per essere, il pensiero si deve realizzare. Io non credo che ci siano strade diverse da queste dentro il marxismo. Perché il pensiero per Gramsci è vero pensiero solo se e quando si realizza. E si deve e si può realizzare solo nel presente. Ed è, diciamo, debbo dire, davvero paradossale, che proprio nel momento in cui il presente, e lo vediamo tutti, ha più bisogno di Gramsci, Gramsci venga collocato il più lontano possibile da esso. E dunque, che lo si voglia o meno, che lo si abbia pensato o meno in questo modo, lo si colloca di fatto al riparo dalla tragedia del nostro tempo e dalla drammatica attualità che ci sta toccando di vivere. Mi sembra questo, diciamo, a livello, anche qui, molto approssimativo e molto semplice, mi sembra questo una filosofia molto problematica. Ed anche se mi è consentito dirlo, anche molto poco gramsciana e molto poco marxista, perché, come scriveva, diciamo, citazioni di questo genere, ce ne sono a migliaia, ma, diciamo, mi piace in questo momento citare un marxista negli anni 70, molto importante, che è Vacca. Come scriveva Vacca nel 71, in un'intervista su Rinascita, la forma della teoria nel marxismo non è mai separabile dai livelli di coscienza e di organizzazione che il movimento popolare di classe riesce, volta per volta, a darsi. Mi sembra, diciamo, nella forma dell'intervista, nella forma immediata di un'intervista, che dica l'essenziale di che cos'è la teoria del marxismo, la teoria nel marxismo. La teoria non ha altra funzione che quello di rielaborare il livello della realtà che volta per volta ci troviamo a vivere. E questo vale a maggior ragione oggi, credo, nelle fasi di crisi e di debolezza del movimento, quando il movimento riesce, come adesso, solo a guardare disperatamente davanti a sé. Anche perché nel frattempo, all'attualità e a noi stessi, dentro di essa, può succedere, sta succedendo di fatto di tutto, senza che noi proviamo a mettere le mani su di essa per aiutare nel presente, come ci ha insegnato sostanzialmente Gramsci, in ogni ora, potremmo dire, le flebili forze in sviluppo, sono parole di Gramsci, a divenire più consapevoli di se stesse e quindi più concretamente attive e fattive. Il punto, diciamo, ridotto all'osso, tutta la materia che si muove intorno a questo tema, è che per parlare di Gramsci bisogna sempre passare dall'analisi del presente. Perché fuori dalla realtà, dall'analisi del presente, perché fuori dalla realtà del presente, il pensiero di Gramsci è di fatto neutralizzato e annientato, polverizzato, per così dire, come dice in una battuta a Tronti, in una recente relazione che ha fatto a Roma 3, polverizzato nell'analisi filologico-testuale dei punti e delle virgole della sua opera in mezzo ai quali questa nuova scienza ha recluso il discorso teorico-gramisciano e la sua straordinaria dirompezza politica. Ecco perché è sempre più necessaria una ripresa di parola su Gramsci, cioè una rinnovata libertà intorno alla sua opera per tradurre quest'opera nella realtà del presente. Diciamo altro che filologia, potremmo dire, cioè non perché la filologia non sia importante, come se davvero con la filologia si potesse salvare la continuità di una tradizione che è cosa che non è mai proceduta in questa maniera. In un certo senso qui occorre politica perché solo con la politica si può uscire da questo presente che ci sta conducendo in un punto di catastrofe. Non si può, io credo, non ci sarà mai, io credo, e non ci potrà mai essere nessun ritorno a Marx, a Gramsci, né a Marx d'altronde, se non si passa da un presente, da un presente che è sull'orlo di una catastrofe. perché il popolo si è messo con forza in una specie di autostrada che lo sta conducendo diritto nel cuore dell'autoritarismo moderno. e ritornare a Gramsci significa oggi innanzitutto spezzare questa linea, manomettere questa autostrada, perché se la critica ha come referente il popolo e non è semplicemente un'attività completamente smaterializzata, è autosufficiente. Essere utilmente presente nella congiuntura e cercare di contare quello che volta per volta è possibile contare, io credo che sia un'attività necessaria. perché i principi devono sempre fare i conti con quello che è in quel momento possibile per produrre gli effetti migliori possibili. Potremmo chiamare tutto questo realismo, Tronte dice, realismo politico popolare o anche riformismo, se la parola troppo usurata non dà eccessivo fastidio, ma di questo alla fine però si tratta. E il marxismo io credo che non può rinunziare mai a questo lato del riformismo se non vuole spezzare ogni relazione con la realtà e con la politica. E questo perché il popolo ha bisogno, come sappiamo, di ogni cosa, perché parliamo spesso di popolo, cioè ritorno al popolo, andare ad ascoltare il popolo, andare nelle periferie, però bisogna capire bene di che cosa si tratta su questo problema. Perché il popolo ha bisogno di ogni cosa, questo è il popolo. Il popolo è bisognoso di tutto. E quindi, anche di poco, e sottovalutare questo poco, come a volte facciamo, è cosa che possono fare solo i ricchi o coloro che fanno della critica un'attività surrealistica, ce ne sono molti, completamente separata da un soggetto reale e materiale e dunque proprio dal suo popolo, da quel popolo che dovrebbero rappresentare e proteggere. E in questo necessario lavoro realistico nella crisi, io credo che Gramici sia di grandissima utilità. perché, come sapete, certamente l'assunto fondamentale di Gramici, che muove tutti i quaderni, la sua unità di ispirazione e di tematica, come diceva Togliatti, è che il fascismo vince sul terreno delle masse, il socialismo perde, è su questo stesso terreno che viene sconfitto. ed è proprio da questo terreno che oggi bisogna ancora una volta ripartire. E da due punti fondamentali del ricchissimo programma di Gramici, che reputo essenziale per il nostro presente e per tutte le sinistre possibili. Il primo è il problema delle masse e dunque dell'egemonia. Il secondo è quella che potremmo chiamare la questione della filosofia e dunque della forma della critica. Per Gramici bisogna tornare a parlare alle masse. Questo è il punto fondamentale. Per parlare alle masse, dice Gramici o direbbe Gramici, è necessario innanzitutto che le masse e le loro ideologie vengano riconosciute e presse sul serio. Non c'è altro modo di poter parlare alle masse se non prendendo sul serio quello che loro dicono e riconoscendo, riconoscimento. E da qui l'importanza in Gramici del tema delle egemonie e del suo allargamento oltre la classe. Per parlare a tutti e per ascoltare tutti. cose che noi ovviamente tutte le sinistre possibili nel nostro paese non riescono più a fare né sanno parlare né sanno ascoltare né educare né essere educati. Questa è la prima cosa da fare per Gramici. La seconda cosa invece è l'elaborazione di un tipo di pensiero adeguato a tale scopo perché è chiaro che se il problema principale è quello di recuperare il consenso delle masse non puoi costruire un pensiero sfasato da questo obiettivo da questo compito. E questa è quella che Gramici chiama la filosofia della prassi. Cioè un tipo di pensiero che non sta mai dove più gli piace magari in un punto teorico più elaborato più che soddisfa di più le proprie le nostre esigenze intellettuali. Un tipo di pensiero che non sta mai dove più gli piace ma dove il mondo lo vuole e lo colloca. E cioè sempre dove il problema dell'egemonia concretamente e storicamente si pone e si dà. Quindi un'integrale politica realistica la sola politica diceva Gramici in grado di raggiungere il fine voluto ha bisogno di una filosofia tutta posizionata su di essa cioè sulla teoria dell'egemonia. Ovvero di un tipo di pensiero che colleghi sempre la critica alla realtà e che rifiuti quello che potremmo chiamare l'autosufficienza della critica. Perché per il marxismo la potenza della critica non si misura dal suo grado di radicalità o di chi urla di più o di meno o di chi chiede di più o di meno ma se essa sta o meno nel punto in cui il mondo la vuole e la colloca. Questi sono i due punti del programma di Gramici di grandissima utilità per il nostro presente che secondo me andrebbero oggi ripresi e rilanciati. Comunque sono i due punti imprescindibili per ogni ritorno in scena di qualcosa che si chiama la sinistra. Il problema è per andare dove per fare cosa? Io credo per mettere con forza le mani sulla società sulla nostra più immediata attualità muovendoci alla stessa maniera di come si era mosso Gramici sostanzialmente il quale che fa seleziona come sappiamo in maniera assolutamente creativa da grandissimo pensatore una decina 15 pagine di Marx scritte in periodi completamente diversi quindi con un'attenzione al filologico completamente approssimativa prende un testo del 45 di una pagina e mezza un testo del 59 di due o tre pagine e qualche altro testo che usa come corollario per fondare sostanzialmente una teoria critica del fascismo e dunque per spezzare il rapporto tra fascismo e masse e per riguadagnare il consenso delle masse io credo questo si dovrebbe fare sempre e questo comunque dovremmo fare noi muoverci alla stessa maniera di Gramici cioè scegliendo il Gramici che è più conforme più adeguato ad affrontare le necessità del momento e le necessità del momento è la necessità del momento è quello di affrontare il problema della polverizzazione e dispersione del popolo questa è la necessità del momento per ricostituire una nuova volontà popolare una nuova volontà nazionale popolare che ci aiuta finalmente diventa ad uscire da qui da questa situazione che non si vedono più vie di uscita ma che si può uscire volentolo ecco ancora una volta la crucialità ritorna ancora una volta il tema del nazionale popolare che era sparito che sembrava il tema più arcaico di Gramici in realtà diventa di nuovo un tema centralissimo per sfidare sul loro terreno i cosiddetti populismi realmente esistenti ovvero per dirla con più precisione con più precisione rispetto al termine e concetto di populismo questa reazione di classe con base di massa che sta qui squadernata di fronte a noi e dentro di noi il pensiero di Gramici è un pensiero per l'azione e occorre farlo tornare a vivere e a parlare di nuovo esclusivamente in questo contesto di azione nel quale il ritualismo gramisciano il suo a volte estenuante scolasticismo diciamo attraverso il quale queste cose vengono messe in questione è disgregato sto finendo più questo è il Gramici di cui abbiamo bisogno il nostro Gramici come diceva Gramici il giovane Gramici a proposito di Marx il nostro Marx e allora se come abbiamo visto all'inizio la forma della teoria del marxismo non è separabile dalle forme di coscienza e di organizzazione che il movimento popolare di classe riesce volta per volta a darsi oggi come dice Trondi in un libro che sta scrivendo molto interessante che dovrebbe uscire a marzo credo oggi dice Trondi che c'è stato un enorme sconcertante arretramento politico del popolo lucidamente occorre prenderne atto e arretrare insieme ad esso mi sembra molto interessante cioè la teoria dice Trondi dovrebbe fare la stessa cosa che di fatto ha fatto il popolo è arretrato e la teoria dovrebbe prendere atto di questo e arretrare insieme ad esso perché se no parla di altro spostandosi sulle sue posizioni per riprenderlo da dove sta e farlo avanzare indicando qual è il nemico da combattere questo non è altro è politica dice Trondi e questo mi pare una cosa addirittura di buonsenso andare prima di tutto a riprendersi il popolo perduto che si è perduto e poi tornare a camminare insieme devo dire mi sembra molto convincente questa cosa ma diciamo per far questo per avviare tutto questo processo che di cui ho su cui ho accennato occorre diciamo collocare i punti che ho sottolineato del programma gramisciano che interessa riprendere e rilanciare bisognerebbe bisognerebbe collocarli questo è il punto che purtroppo per ragione di tempo accenno pochissimo ma è il punto essenziale del discorso che bisognerebbe fare occorrerebbe collocare i punti del programma gramisciano che bisognerebbe riprendere rilanciare in un orizzonte più ampio rispetto a quello dell'immanenza dentro il quale che è lo sfondo istituito invece da gramisci perché dentro questo sfondo la filosofia cioè il proprio pensiero il proprio punto di vista rischia sempre di farsi risucchiare dalla congiuntura di scambiare la congiuntura con l'assoluto dal presente di usurarsi e di corrompersi perché dentro questo quadro non si hanno energie sufficienti per resistere ad essa e per durare diciamo quindi filosofia pensata come l'abbiamo detta è il problema delle masse il problema di un pensiero che aiuti a recuperare questo consenso delle masse però tutti e due questi elementi andrebbero collocati in uno sfondo diverso da quelli che li ha collocati i gramisci che è quello dell'immanenza perché l'immanenza usura sostanzialmente cioè ci vorrebbe uno sfondo che ci permette di legare di fine in fondo di legare teorie e congiuntura filosofie e politica ma che non assolutizza mai lo spazio dove questo legame avviene e si situa perché è proprio in questa non assolutizzazione che va rintracciato il motore di questo rapporto ciò che realmente permette la sua continuità e la sua durata ma occorre uno sfondo più ampio di quello dell'immanenza anche perché solo da dentro questo sfondo nuovo può fuoriuscire o sorgere la forma di vita di cui oggi abbiamo particolarmente bisogno ovvero uomini che tornino di nuovo a far concedere come diceva un grande filosofo come Gentile la filosofia con la sincerità e Gramsci era certamente uno di questi uomini perché la sua filosofia coincideva integralmente con la sua vita ora se e quando inizierà qualcosa di nuovo io credo è solo da vite in questo dicevo qualcosa di nuovo entrerà di nuovo in scena quando entreranno in scena in ogni paese in ogni quartiere uomini che abbiano una struttura di questo tipo e solo in quel momento potrà prendere avvio qualcosa di diverso e io non credo che ci sono scorciatoi rispetto a questo cioè non basta nella teoria nella politica in astratto cioè se non entrano in scena nuove figure di uomini che in qualche modo assomiglino a Gramsci a Gramsci asomiglino a Gramsci a Gramsci a Gramsci a bidiro